Ha ucciso la moglie soffocandola e poi si è tolto la vita lasciandosi a negare nel lago, nel porto di Bardolino. A compiere l'estremo gesto, un settantotenne del posto, a trovare la madre e a lanciare all'allarme il figlio della copia che verso le 7.30 di stamattina è andato a trovare i genitori, ignaro della tragedia. Ha trovato la madre senza vita, distesa sul letto, accanto al biglietto in cui il padre annunciava che stava andando al porto per farla finita. Corso sul posto, ha individuato il corpo del padre che galleggiava tra due barche e ha dato l'allarme.